Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, immediatamente operativo senza ordinanza delle regioni, il Governo ha indicato in quali territori si applicano le misure più forti di sospensione delle attività didattiche e delle attività di pubblico spettacolo. Oltre alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che sono in zona rossa, il parere dell'Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto sufficienti i casi registrati nella provincia di Pesaro Urbino per l'inclusione, insieme con la provincia di Savona, tra i territori in cui applicare le seguenti misure di contenimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. Sospensione sino all'8 marzo 2020 dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università. Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Sospensione sino all'8 marzo di tutte le manifestazioni organizzate di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica. Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Apertura delle attività commerciali diverse dalla ristorazione, condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. Limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di diregenza. Rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti. Privilegiare, nello svolgimento di incontri e riunioni, le modalità di collegamento da remoto. Nelle restanti province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, la regione Marche seguirà il modello delle altre 12 regioni che applicano misure diverse, tra cui la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi di istruzione, le misure di sicurezza da garantire per le procedure concorsuali, l'obbligo per le aziende di trasporto pubblico locale, anche a lunga percorrenza, di adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi. L'obbligo per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al proprio medico.